Place to be Siena, top 10. Ecco i 10 migliori eventi alla settimana a Siena e provincia. Sigla! Siena e provincia. La performance si sviluppa in tre parti, il Chianti Mezzadrille, il Chianti Shire e il Chianti Odierno. Queste tre fasi storiche corrispondono a tre diversi modi di vivere nel Chianti ed evidenziano gli aspetti differenziali su cui è fondata l'identità chiantigiana. Giovedì 10 maggio i goliardi senesi presentano Affia Baritta, ovvero Pene di una principessa. Operetta goliardica in due gatti con gli stivali sarà sul palco del Teatro dei Rozzi il 10, l'11 e il 12 maggio 2018. I biglietti possono essere comprati presso il Nannini con Cadoro. Inizio spettacolo ore 21. Domenica 6 maggio presso la Fortezza Medicia a Siena si terrà un evento green del divertimento sostenibile Eco Park, un evento family all'aperto, gratuito, a cui sono chiamati a partecipare i cittadini di Siena e non solo, con le proprie famiglie, in un contesto di incontro stimolante sia per i bambini che per gli adulti. Venerdì 4 maggio Lombardi Arte in via di Beccheria a Siena presenta Sinapsi. Il collettivo Sinapsi e il curatore Steve Bisson si racconteranno alla Galleria Lombardi Arte di Siena in occasione della presentazione del nuovo magazine annuale. Una trentina di case ambientali e di storie, quelle raccolte dal gruppo di fotografi e fotografi italiane. Sabato 5 maggio Galleria Fuoricampo a Siena presenta Tears in the Rain di Myrthe Kluck, la prima personale dell'artista olandese in Italia. La mostra presenta l'ultima produzione della giovane artista caratterizzata da una ricerca sulla superficie e sui materiali. L'esposizione resterà visibile fino al 28 giugno. Sabato 5 maggio Caccio e Pere a Siena presenta Guappe Cartò Live, un laboratorio di musiche cosmopolite che oscilla tra sonorità zigane e balcaniche, con aperture al tango e alla musica classica. Tradizioni melodiche mediterranee e un armonioso mix di culture e generi che la band ha assorbito per le strade e tra la gente di tutta Europa. Sabato 5 maggio Fuoricporta a Coroncina a Siena presenta 90 Special, una grande serata dance con le migliori hit internazionali degli anni 90, suonate in vinile da pop e DJ, musica e tanto divertimento dalle ore 22 e 30. Mercoledì 9 maggio Parolai Tapas Barra a Siena presenta Bentoniac Live, un trio di electronic voodoo music che presenterà i loro brani che guariscano l'anima e intossicano il cervello. Potrete accompagnare il concerto con un bel bicchiere di vino o bollicine oppure un cocktail particolare. Giovedì 10 maggio Bottega Ruzza a Colle di Valdelsa presenta il duo olandese-finlandese Town of Saints Live. Il nuovo album dei Town of Saints No Place Like This è un mix di influenze tropicali e dark, un viaggio che descrive l'ambiguità tra la vita moderna e la nostra natura primordiale. Il concerto inizierà alle ore 22. Venerdì 11 maggio Contrada della Lupassiana presenta un weekend di festa di primavera. Cene con street food sia venerdì che sabato, bracere, stand con dolci, birra e cocktail. Ad accompagnare la serata del venerdì ci sarà la musica dal vivo con i B-Cube e sabato invece un DJ set con Gigo Certosini. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se vuoi essere al top, condividi e metti mi piace. Posta foto e video taggando PlayStubeSiena quando partecipa a qualche evento per maggiore visibilità. Se ti interessa un approfondimento, contatta la nostra relazione. Ci vediamo la prossima settimana, stesso giorno, tanti posti diversi. Ciao da Maria Pia e PlayStubeSiena. Ciao da Maria Pia e PlayStubeSiena.